Chi di noi, soprattutto in giovane età, dopo essersi tagliato non è corso in lacrime dei genitori convinto di morire distanguato? Eppure questo non è mai successo, si spera, perché dopo qualche minuto la fuoriuscita di sangue si è arrestata autonomamente. Questo grazie alla presenza nel nostro sangue di elementi che garantiscono, nelle giuste circostanze, la coagulazione dello stesso, ovvero la trasformazione irreversibile di una sostanza liquida in una solida o semisolida, come il processo di cagliazione che consente la produzione del formaggio a partire dal latte. Tale evento avviene tramite due meccanismi, uno intrinseco, dipendente solo dalle molecole presenti nel sangue, ed uno estrinseco. Normalmente all'interno dei vasi sanguigni il sangue si trova in condizioni chimico-fisiche molto ben precise che ne garantiscono la fluidità. Pensate a come la colla riesca a rimanere liquida all'interno di un tubetto, ma appena lo aprite e lo applicate su qualcosa, in pochi minuti o addirittura pochi secondi acquisisce una presa tenace. Questo perché nel tubetto insieme alla colla vi sono delle sostanze che ne impediscono la coagulazione, che a contatto con l'aria evaporano. Ecco, il sangue funziona in maniera molto simile. Quando vi improvvisate Masterchef oppure siete ubriachi e decidete che fare il giocoliere con dei coltelli sia veramente fico, tagliandovi ecco che il sangue si trova improvvisamente esposto a molecole di ogni tipo, dalle proteine che costituiscono l'impalcatura dei vasi a tutta la roba che si trova sulla vostra pelle in quel momento. Tutti questi fattori, in particolare le proteine, sono spesso dodati di cariche superficiali negative, ed è proprio questo stimolo elettrico ad attivare il fattore dodicesimo della coagulazione. Questo rappresenta il punto di attivazione della cascata coagulativa, dove per cascata in biochimica si intende un enzima che ne attiva un altro, che ne attiverà un altro, che ne attiverà un altro, e così via. Nel caso foste interessati a questo tipo di roba, non sono qui per giudicare, il fattore dodicesimo attiverà il fattore undicesimo, che attiverà il fattore nono, che insieme al fattore ottavo attiverà il fattore decimo. E prima che lo scriviate nei commenti, oh ma non potevano nominarli in ordine che così non si capisce niente? Li anticipo io, sono nominati in base all'ordine di scoperta, non li sto giustificando, è stupido, ma è così. Scusate. Ad ogni modo, l'attivazione del fattore decimo è un punto cruciale della coagulazione, poiché qui si ha la convergenza del meccanismo intrinseco, di cui abbiamo appena discusso, e di quello estrinseco, che si innesca quando le cellule endoteliali danneggiate rilasciano il fattore terzo, che attiverà il fattore settimo, che attiverà il fattore decimo. Quanto amo questo sistema di numerazione. Ed è al fattore decimo che comincia la vera magia. Tale fattore, infatti, attiverà il fattore secondo, chiamato anche protrombina, che diventerà trombina quando attivato. Questo a sua volta determinerà l'attivazione non di un enzima, bensì di una particolare molecola, il fibrinogeno o fattore primo. Tale proteina è costituita da due unità tripeptidiche, formate dalle catene alfa, beta e gamma, in una struttura simil triangolare. Normalmente le estremità delle catene alfa e beta sono altamente negative, per cui tendono a respingere le altre molecole di fibrina che quindi rimarranno disciolte nel sangue. La trombina, invece, interverrà tagliando o clivando, se preferite, queste porzioni alfa e beta, per cui improvvisamente le molecole di fibrina cominciano a polimerizzare, ovvero ad unirsi in una massa che inizialmente prende il nome di coagulo morbido, ma che con l'intervento del fattore tredicesimo si stabilizza diventando un coagulo stabilizzato. Tanta fantasia nella biochimica. Questa rete di fibrina appena formata fa esattamente quello che vi aspettate, ostruisce il passaggio di buona parte degli elementi del sangue, grazie anche al contributo delle piastrine. Queste non cellule, poiché sono solo dei frammenti cellulari, quando esposte alla trombina formano delle propaggini dette pseupodi sulla loro membrana, che le porta ad impigliarsi sulla rete di fibrina bloccando il passaggio di cellule più grandi. Non saranno però in grado di arrestare completamente la parte liquida del sangue, denominata ora siero, e sarà quella sostanza giallognola che potete osservare quando spremete una ferita coagulata, nel caso avreste voglia di farlo. In questa fase si avrà quindi la retrazione del coagulo, che servirà ad aumentarne l'adesione ai tessuti lesionati e garantire il contatto tra questi in modo da favorire il processo di guarigione. Come tutte le cose belle però, anche questa deve avere una fine, che si presenta nella forma della fibrinolisi. Questa avviene tramite una proteina denominata plasminogeno, o plasmina quando attivata ad esempio da fattori tessutali rilasciati dalle cellule. Essa agisce su più livelli. Da un lato frammenta direttamente la fibrina dissolvendo il coagulo, dall'altro inibisce i diversi fattori della coagulazione impedendo quindi la formazione di nuovi coaguli. La frammentazione della fibrina, in particolare, porta alla formazione di una particolare proteina detta didimero. Poiché tale proteina si forma solo in questa occasione, è molto usata in clinica quando si devono cercare eventi coagulativi recenti, ad esempio fenomeni trombotici di diversa natura. Questo processo di degradazione dura quando fino alla lesione viene completamente riparata e quindi il coagulo completamente dissolto. Chiaramente il processo di coagulazione e la sua efficienza non si chiudono esclusivamente al momento della lesione. I fattori coagulativi infatti si degradano molto rapidamente anche in fasi di non attivazione, per cui il loro ricambio deve essere continuo, e la loro produzione avviene nel fegato, che utilizzerà la vitamina K come cofattore per la produzione di diversi fattori quali il secondo, il settimo ed il nono. Questo è il motivo per cui i soggetti con deficit di vitamina K o insufficienza epatica grave sanguinano in maniera molto cospicua, proprio perché vi è la carenza di fattori coagulativi e quindi la formazione del tappo di fibrina avviene molto lentamente o non avviene affatto. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, questo mi dice che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook ed Instagram e se vi piacciono i nostri design potete trovare queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!